è un piccolo sensibile passo in avanti per il ritorno alla normalità nella città che ancora cercano a sua identità nel post terremoto all'aquila la popolazione torna ad aumentare grazie anche al ritorno nelle abitazioni principali riparate dopo il sisma in molti infatti avevano cercato dopo il terremoto ospitalità nei comuni limitrofi anche se ancora forte il segno lasciate dalle emorragie di famiglie degli anni scorsi il servizio elaborazione dei dati del comune dell'aquila ha elaborato i dati relativi ai nuovi e cancellati iscritti all'ufficio anagrafe dell'ente al 31 dicembre 2015 nesce fuori un quadro molto simile alle cifre del 31 dicembre 2014 gli iscritti infatti all'anagrafe sono in totale 70.509 quasi 300 in più rispetto ai 70.230 comunicati l'anno precedente a darne notizie è stato il sindaco cialente in persona attraverso la sua pagina facebook sempre più spesso utilizzata per fornire notizie di servizio e dialogare con i cittadini internauti dunque rispetto al 2014 gli iscritti sono in leggera crescita una quasi impercettibile ma reale inversione di tendenza rispetto agli disastrosi 2010-2011 quando il comune dell'aquila perse 5.000 residenti arrivando al minimo di 66.905 persone del 31 dicembre 2011 sempre all'aquila nel 2015 sono nate 661 persone rispetto alle 678 defunte il totale degli stranieri iscritti all'anagrafe comunale infine è di 4.657 mentre 619 sono quelli andati via andati via